Che siate o meno tenisti dovete andarlo a vedere il video su Federer perché ho chiesto Andrea Gaudenzi ve lo ricordate numero uno di tennis, grande giocatore Gaudenzi, di dare un po' di riflessioni quindi nel video ci sono anche le sue opinioni, il suo punto di vista e poi Gaudenzi è uno che con Federer sta 1-0, cioè non è che sono tanti quelli che possono dire non ci ho mai perso, giornata strana oggi, una giornata un po' di stacco a volte ci vuole per ragionare, pensare, provare a fare un po' di strategia anche, provare a porsi delle domande cosa fare, cosa non fare, quali sono le cose più importanti che fanno la differenza principale ho fatto giocare un po' a tennis, non l'ho tirata dentro mai, ma mai, mai, mai una pena, una pena ed ero lì che dicevo monte, monte, ma dove sei? Hai ispirato da Federer e poi non la tiri dentro mai rovescio imbarazzante, il dritto ogni tanto piglio i piccioni quando entra si fa boom, ma è quando entra si sottovaluta però spessissimo l'importanza di fermarsi a pensare, a volte ti fermi e dici ma no, aspetta, ma perché la stiamo facendo blu? facciamo la rossa e cambia tutto, è una semplice intuizione a volte che fa la differenza o un'analisi dei dati che ti fermi un secondo a posto di correre come un cretino, provo a vedere se magari esiste un modo migliore un altro angolo, un'altra alternativa libro del giorno, libro suggerito che poi ci serve anche per parlare di un argomento interessante perennial seller di Ryan Holiday, Ryan Holiday è quello che ha scritto trust me I'm lying, è un ragazzo intelligente, molto bravo io l'ho anche intervistato, molto sveglio marketer migrato ultimamente più diciamo sul filosofico e ha scritto questo libro interessante sia per gli autori, se scrivi un libro in sostanza ti dice tutta una serie di consigli per scrivere un libro di successo che rimanga nel tempo, non il perennial seller, non il best seller, il perennial seller quello che da qua a 30 anni, 50 anni ancora uno se lo ricorda un errore che spesso si fa è quello che ci si dimentica che alla fine tutto il bel progetto lo devi anche presentare a qualcuno, lo devi presentare ai dipendenti e collaboratori quelli che vuoi far lavorare con te, lo devi presentare a un investitore lo devi presentare a un partner che magari dici voglio un media partner o un partner tecnico qualunque partner vuoi, lo devi presentare alla stampa, ai media, quando devi pitchare un giornalista quindi questo pitch cosiddetto ha una serie di requisiti importanti è giusto ricordarsi, quindi uno dice quali sono le cose che di solito dobbiamo spiegare alcune domande Per chi è questo prodotto o servizio? Qual è il pubblico? Maschi, femmina, che età? Vivono a Vergo Zocorino o a Brisbane? Per chi questo prodotto non è? L'errore che uno fa, io l'ho fatto tantissime volte è quello di cercare di proporre a tutti se tu proponi a tutti, come dice Seth Godin, tutti non è un consumatore, tutti e nessuno Why it is special? Perché il tuo prodotto è speciale, perché il tuo prodotto è diverso What it will do for them? Che cosa farà il tuo prodotto per loro? Quali sono i benefici, i vantaggi per loro? Questo ne abbiamo parlato tante volte e poi in generale why anyone should care? Perché una persona dovrebbe prestarci attenzione a quello che fai tu Vabbè Troppo spesso uno si innamora delle cose che fa, l'unico motivo è se ne innamora perché l'ha fatta lui è il famoso effetto Ikea, ho fatto un video un po' di tempo fa su questo e si dimentica che poi deve tradurle, deve spiegarle ad altre persone non è che uno capisce immediatamente, magari tu hai fatto un grande prodotto, è un servizio fighissimo però se non lo sai spiegare, se non rispondi a queste domande rischi che le persone non capiscono e il mercato non te lo compra Slashers, tutto è me, Slashers, lo riapriamo a marzo e in pratica funziona così, questo può essere interessante per chiunque abbia una community o un prodotto che vuole vendere ma non sa bene la modalità di lancio del prodotto quello che facciamo noi è aprire la possibilità di iscriversi alla community di Slashers due volte all'anno e adesso marzo è 1 e poi c'è settembre e in pratica questo significa che non puoi iscriverti durante l'anno e non basta che tu decida di pagare per entrare c'è una selezione che viene fatta vera, non è finta motivi di questa scelta, sono diversi allora, da un lato c'è un tema di urgenza e scarsità che si crea quando ci sono solo dei momenti specifici in cui può essere fatta una certa azione e questo senz'altro è vero anche nel nostro caso l'apertura due volte all'anno aiuta a creare quel momento dove tu o entri in quel momento cerchi di entrare in quel momento oppure sei fuori, devi aspettare sei mesi dall'altro lato nel nostro caso ha una serie di motivazioni immaginate se entrano 5.000 persone di botto dentro una community è un casino perché poi devi gestirle devi dargli delle linee guida a questi signori che entrano devi stargli dietro, non è che puoi abbandonare lì questi pagano e entrano e abbandoni nel nostro caso questa formula ci aiuta e allora funziona bene perché da un lato unisce un elemento di marketing, di comunicazione e dall'altro lato però ti aiuta gestionalmente, organizzativamente a creare una community che gradatamente viene fatta crescere non c'è un influsso, boom, tutti dentro tra la gente non è soddisfatta, si disescrive così facciamo uno step alla volta dall'altro lato la domanda che ci facciamo in questo mese la vedrete svilupparsi qua davanti ai vostri occhi è ma qual è un modo che può essere nuovo, diverso, interessante per riaprire le candidature, cosa possiamo fare l'altra volta abbiamo fatto una settimana di webinar questa volta sì, vogliamo fare magari anche lì degli incontri però provare a cercare di far capire che cos'è Slashers dietro le quinte facciamo parlare chi la vive, facciamo vedere che cosa c'è facciamo vedere gli ospiti che abbiamo abbiamo un archivio video con centinaia di ore di video e soprattutto chi meglio delle persone che pagano per essere dentro lì e che in più sono anche contente e possono essere i migliori per raccontarlo poi le modalità di selezione, richiesta cosa facciamo? Mail? Solito form mail? No, andiamo su un bot? La tua sfida, se sei l'imprenditore di un progetto è quella di chiederti come puoi ottimizzare tutti i flussi che hai se hai delle persone che si candidano perché vogliono entrare inevitabilmente poi ne perdi un sacco lungo la strada perché il form non funziona e non accetti la certa carta di credito non accetti PayPal cioè ci sono tutta una serie di scelte che fai la mail che va in spam e allora cerchi di togliere i coli di bottiglia per far sì che una volta che hai selezionato le persone giuste quelle sei sicuro che entrano nella maggior parte dei casi rimare, rimare, rimare tutti i giorni per trovare un po' la quadra migliore e non si finisce mai Ognuno ci prova questa è la verità ognuno ci prova ognuno prova a fare i propri interessi non guarda in faccia a nessuno e non è che tu devi per forza dire sì se uno ti fa un'offerta di un certo tipo magari ci sta provando brutalmente magari pensa oh questo qui magari pensa questa azienda va particolarmente bene ha budget e sparo la cifra e chi si è visto si è visto non è detto che uno debba per forza stare a quelle condizioni l'ideale è riuscire a spostarsi il più velocemente possibile in una situazione dove tu contrattualmente puoi avere una leva che ti permette di dire no io a queste condizioni non ci sto e a te non cambia niente e aspetti il momento migliore per comprare che è un po' la strategia no? Warren Buffett, Charlie Munger, sempre i soliti stanno lì fermi e aspettano come Chang ve lo ricordate? lui stava lì fermo sulla terra aspettava, aspettava, aspettava quando aveva la palla buona boom e qui è la stessa cosa se riesci a portarti in quella condizione dove non sei sempre impiccato che devi dire sempre sì a qualunque tipo di proposta ma scegli tu beh a quel punto quando c'è una buona proposta la persona giusta le giuste condizioni a quel punto vai dentro con tutte le scarpe senza farti strozzare se non hai invece la leva il mercato ti massacra è una corsa il più velocemente possibile per spostarsi dall'altra parte della barricata dove sei quello che può decidere se anche dice di no va bene uguale beh è un'altra parte della barricata è un'altra parte della barricata